Chi sono gli altri personaggi principali? Mia madre, Georgina Lopez, una bellissima donna divorziata ormai da un po' e una donna molto accogliente. Gli altri personaggi c'è mio padre, Brandon Ricciardi, che è un ex idolo di fotoromanzi anni Ottanta. Infatti accoglie all'interno della sua casa anche la famiglia Ricciardi, appena ha dei problemi noi siamo sempre lì pronti ad aprirli le porte di casa. Un aggettivo per il personaggio di Brandon Ricciardi. È il responsabile, tra lui e il figlio, cioè tra me e mio padre e il vero genitore sono io. Un aggettivo per il personaggio di Georgina Lopez. Accogliente. Stupid Cupid è il titolo della webserie. A cosa c'entra Cupido nella storia? Cupido scocca sempre le sue frecce quando uno non si le aspetta alle persone che non stanno cercando niente a quel momento. Anetto con le alette, con i ricciolini, capito? Affatti di casini, quindi se c'entra Cupido nella storia. Se ti dico dammi tre parole, cosa risponderebbe il tuo personaggio? Libri, certezze nella vita, lealtà. Amici, follower su Instagram e amore, vabbè, è una soppopera, amore. Vabbè anche l'amore dai. I vostri personaggi vanno d'accordo? No, assolutamente. Lei pensa che sia un fighetto sfigato, pensa solo alle apparenze dei suoi follower. Cioè, per niente proprio. Lui, tipo, la odia un po' dall'inizio, perché lei è una saputella del cazzo, poi... Il tuo personaggio si innamorerà? E chi lo sa? Non si sa, non si sa. Il tuo personaggio avrà un rapporto sessuale? Più di uno, credo, però, sempre per il discorso dello spoiler, non posso dire, anche perché non so con chi, ma più di uno sicuramente. Il sesso è vita, se non c'è quello, non... Cosa ne pensi del sesso nella letteratura? Il sesso nella letteratura era tutto qua dentro. Poi si è arrivata a tre immagini e hanno rovinato delle generazioni. Poi il sesso vende. E in un radiodramma? Un po' come il sale, no? Bisogna... A giuste dosi va messo un po' quella. Il sesso in un radiodramma? Me lo domando, infatti non lo so, non ho un'opinione ben precisa. Ci saranno anche altri personaggi più avanti? Sì, sicuramente arriveranno anche altri personaggi. Dalla regia poi mi dicono di specificare che è sagittario, che non so cosa c'entri, né che voglia dire, però lo dico. Sagittario. Saluta con una frase ad effetto. Sia che tu stia bene, sia che tu stia male, non smettere mai di seguire Monolocale. Quanti ente ho usato? Stupid. Cuore. Stupid. Cupid. Stupid Cupid. Scritto da Alessandra Merico. Si legge e si ascolta dal 9 maggio su www.monolocalespettacolo.com Ah, a proposito. Io sono il padre di James, Brandon Ricciardi. Ci sentiamo presto. Stupid Cupid, stop piggin' on me.